Cominciamo, grazie. Abbiamo fatto quattro gol, siamo contenti. Il nostro obiettivo era passare il turno e ci siamo riusciti e siamo felici. Adesso prepareremo la partita con il Milan domenica. Buonasera, mister Luca Cavallaro, Tienvo Radio. Io le chiedo come ha trovato Dybala stasera dopo tutto quello di cui separati in settimana e poi appunto un giudizio anche su questo coro da parte del pubblico dell'Allianz Stadium che l'ha acclamato per restare a Torino. Grazie. Ma io Paolo lo trovo sereno, si allena bene, è stato decisivo in queste partite, siamo contenti, ma tutta la squadra l'ho vista bene, non solo Paolo, ho visto chi ha giocato prima, chi è entrato dopo, ha fatto molto bene e che tutti hanno fatto un'ottima partita. Buonasera, Valerio Clare Gazzetta. Volevo chiederle un giudizio sui due centrocampisti, Locatelli e Arthur, se possono essere una coppia stabile. Ma io parlo di stasera, poi vedremo in futuro, chiaramente Arthur ha fatto benissimo come Locatelli, ma io direi anche stasera che ogni tanto è criticato e l'abbiamo fatto una partita molto molto buona, ha corso tantissimo, si è inserito, è andato al tiro, ha fatto una partita importante come tutti gli altri. Non trovo un giocatore che ha giocato al di sotto del proprio livello, hanno fatto tutti molto bene, abbiamo avuto come ho detto un atteggiamento tutti molto corti e aggressivo, siamo stati bravi tutti, sono stati bravi tutti. Buonasera Marco Vendizi, signora Mia Calcio News, due elementi, se lei è soddisfatto dei giovani questa sera e poi se è soddisfatto della squadra, perché mi sembra che si è visto un pochino che urlava, però poi alla fine è soddisfatto insomma, della prestazione più che altro. Io da ex portiere ero abituato a chiacchierare, parlo sempre, poi quando c'è gente si sente meno, ma chiacchiero, chiacchiero sempre, non è che sto al sito. Sì, giovani è entrato a che, ha preso rigore, è stato molto bravo, abbiamo diversi ragazzi giovani come Sule, come De Winter, che erano con noi, Miretti, la possibilità di avere una squadra dell'Under 23 è stata molto importante per la Juventus perché fa crescere questi ragazzi, fare un campionato professionistico di Serie C, aiuta a crescere, questi ragazzi ne hanno avuto beneficio di questi campionati, stasera ha giocato a che, peccato, potevamo fare entrare qualcun altro, però poi avevamo finito i campi, è andata così, però siamo molto contenti, sì, di questa partita. Buonasera mister Nicola Gallo Mese Apason, le chiedo a che punto è Danilo, l'abbiamo visto molto bene, ha giocato addirittura un'ora al rientro, quindi insomma la grande esperienza nel gestirsi credo anche, ma se può essere già subito un ulteriore aiuto già per domenica, visto che ha giocato così tanto oggi, e l'altro brasiliano, Caio Giorgi invece, che ha giocato solamente l'ultimo quarto d'ora, come procede la crescita di questo ragazzo che è arrivato comunque con un discreto clamore? Cominciamo da Caio, Caio è un ragazzo molto interessante, un ragazzo educato, un ragazzo che lavora molto bene, deve avere pazienza, io ci parlo spesso con lui, perché chiaramente giocando poco non è facile, però un ragazzo che deve continuare a lavorare, che col lavoro piano piano poi riceverà le soddisfazioni che merita, oggi è entrato e ha fatto bene, siamo contenti anche lui, deve continuare a insistere, e sono sicuro che, un ragazzo molto giovane anche, ricordiamoci questo, però un ragazzo di sicuro affidamento. Non mi ricordo, scusate, ma l'altra domanda? Ah, Danilo, Danilo, ragazzi, Danilo, basta vedere il curriculum di Danilo, quando uno, come lui, gioca in quelle squadre che ha giocato, vuol dire che è un grande giocatore, anche lui ha pensato molto alla sua assenza, siamo molto contenti, perché ha avuto un brutto incidente, non è stato un incidente semplice, è stato fuori tanto, noi quest'anno abbiamo avuto tanti infortuni, qualcuno non lo ricorda, abbiamo avuto Paolo che è stato fuori tanto, diverse partite, credo che l'ho detto prima, perché guardavo stamattina, abbiamo fatto 29 con la Champions, lui ne ha fatte 18, come Federico Chiesa, che ho già detto prima, dedichiamo a lui questa vittoria, l'aspettiamo, gli facciamo un grosso un bocca al lupo, e speriamo che torni il più presto possibile con noi. Abbiamo perso tra i ragazzi i giocatori, da cui Danilo, poi i giocatori di una certa navigatura danno esperienza, e Danilo è uno di questi, è un giocatore di uno spessore alto, e siamo contenti di far rientro, e sono contento che è riuscito a fare 60 minuti, chiaramente da centrale duri anche un pochino, se ti gestisci un po' meglio, devi correre meno, e lui l'ha fatto con la voglia. Poi è un positivo, un ragazzo che è positivo, le persone positive portano sempre bene, noi abbiamo questa idea, e lui è uno di questi, un professionista non serio di più. Buonasera, Massimo Lanari, Rai TGR Piemonte, vorrei chiedere il quadrato alto a destra stasera, se può essere una risposta per la Juve, anche per il futuro, dopo l'infortunio di Chiesa, e poi questo su svariare anche sulla sinistra, se era qualcosa di preordinato, oppure figlio delle circostanze. È un po' figlio delle circostanze, noi avevamo preparato la partita, cercando di costruire a tre e alzare i due terzini che facevano i quinti, praticamente uno da parte Alex, da parte quadrato, lui l'ha fatto molto bene, poi secondo la situazione vedeva che le posizioni in campo non sono così rigide, secondo se c'è uno lì posso mettermi da un'altra parte, sì che abbiamo fatto questo molto bene, abbiamo fatto anche molto bene, secondo me quando avevano lavorato la palla siamo andati molto in aggressione in avanti, con tutti, e questo l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto bene anche con l'Inter, secondo me questo tipo di partita, perché abbiamo fatto una partita coraggiosa anche con l'Inter, abbiamo fatto una bellissima partita contro una grande squadra, e sì che siamo contenti. Antonio Paolino, Radio Bianconera, se c'è un aspetto o una scommessa vinta in questa partita che ha voluto analizzare a caldo subito con mister Allegri, e le chiedo se il rigorista è di bala e se avete apprezzato il fatto che ha ceduto il pallone a Morata. Il rigorista era, anzi all'inizio era quadrato, perché Paolo non giocava, doveva essere quadrato, poi che è entrato Paolo, stava battendo lui, poi è stato molto bravo a cedere Alvaro e a fare gol, sì, sì, sapevamo questa cosa, hanno deciso loro in campo praticamente, non è che è stato preordinato, l'hanno deciso in campo, e questo è un esempio di come la squadra lavora bene, si vuole tra virgolette bene, si stimano, e questo si viene anche in campo secondo me. E con con mister Allegri vi siete stati? No, chiaramente poi i giocatori ti prendono in giro, perché ho fatto due partite, così allora ci prendevamo un po' in giro, non scherzavamo perché quando vinci è tutto molto più bello e molto più sereno, perché questo mestiere è molto bello quando vinci, quando non vinci è un po' più pesante. Ci piace vincere, stasera eravamo contenti, c'è stata qualche battuta di qualche giocatore, chiaramente anche di lui scherzava, ma era molto contento della prestazione della squadra. Direi l'ultima. Salve mister, Giorgio Musto di Colciamercato.it, le chiedo se si aspettava qualcosa in più dalla prestazione di Kuluseski, grazie. No, 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 ha fatto bene anche lui, è stato propositivo, è andato a prestare molto bene, ha fatto anche lui secondo me una buona partita. Dejan si trova meglio in quella posizione del campo e ha fatto una buona partita anche lui secondo me.